Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni dal 25 al 29 ottobre. Gloria finalmente torna a Milano. Da una parte vorrebbe riprendere il suo ruolo di capocommessa, ma dall'altra è preoccupata perché sa che è costretta ad affrontare Ezio. Ormai non può più rimandare e i due si incontrano. A Ezio fa strano rivedere la sua ex moglie dopo tanti anni. O meglio, quella che considera la sua ex moglie, visto che non si sono mai separati e non ha mai chiesto l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Dopo questo primo incontro, Gloria chiederà a Teresio di incontrarsi nuovamente. Teresio è titubante, ma alla fine accetta. Ci sarà un confronto molto drammatico tra i due. Tutto il dolore emerge. Il padre di Stefania ha paura che il ritorno di Gloria possa minare gli equilibri della sua vita. Ora sta cercando di costruirsi una nuova famiglia insieme a Veronica, sua figlia Gemma, e Stefania, e non vuole che la notizia che Gloria è ancora viva travolga Stefania. Per questa ragione le chiede di sparire, anzi, in realtà le anticipazioni dicono che la minaccia. Ma nonostante tutto, il padre di Stefania, dopo l'incontro con la ex moglie, continua a pensare a lei. Ama Veronica, ma l'incontro con Gloria non lo ha lasciato affatto indifferente. Paola, che come sappiamo è incinta, si sente male. Le colleghe sono preoccupate per lei, ma per fortuna interviene Gloria, che è stata un'ostetrica e che quindi riconosce i sintomi di una gravidanza complicata. La Morò interviene e il suo aiuto è fondamentale per salvare sia la vita di Paola, sia la vita del bambino. Successivamente la Galletti verrà portata in ospedale. Il giorno dopo Stefania, Irene e le altre Veneri vogliono sapere come sta la loro collega. Fortunatamente attualmente sta bene e si trova in ospedale. Ezio viene a sapere del tempestivo intervento di sua moglie nel salvare Paola e il suo bambino. Questo evento lo porta a riflettere. Forse è stato troppo duro con Gloria. Penserà di cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Armando, che è venuto a sapere dalla capocommessa dell'incontro di lei con il marito, desiderà di aiutarla. Le è stato molto vicino nell'ultimo periodo e per questo desiderà di parlare con Teresio. Cerca di fargli vedere un altro punto di vista e di convincerlo a non essere così in duro con la sua moglie.